amici di inter fan tv cuori forti nero azzurri bentornati da michele borrelli alle nostre rubriche ci siamo inizia il campionato anche per l'inter dopo i tutti i risultati della prima giornata perché l'inter è l'ultima nel posticipo a scendere in campo quindi ha vinto la juventus ha vinto il napoli ha perso il milan ha pareggiato la roma in un carambolesco 3 a 3 dopo il 3 a 4 di firenze la lazio che ha vinto 3 a 0 in casa del geno l'atalanta che è rimontato 3 a 2 con la spalla miailovic che è tornato in panchina un grande in bocca al lupo a sinisa per la sua battaglia che è più importante di qualsiasi partita andiamo a noi le scelte di liverani ma soprattutto quelle di antonio conte che ha parlato in conferenza stampa ribadendo i suoi concetti cardine mi ha colpito per esempio il dire non vado a cercare l'empatia no e si vede tutta la personalità perché il riferimento chiaro ai dieci anni fa c'è stato fa c'è stato è stato fatto anche nelle domande ma lui dice no io non vado a cercare l'empatia io sono quello che sono e mi devono amare se vogliono o voler bene o appoggiare per quello che sono non vado a cercare chissà cosa ma e l'aveva detto il 7 luglio la squadra deve trascinare il pubblico il pubblico deve essere orgoglioso non solo perché si raggiunge questo quel risultato ma perché deve avere la squadra un'identità chi inizierà a dare l'identità andano e ci importa d'ambrosio devrai screener manca godin e quindi questa è la difesa più provata è la difesa quasi certa di partire dal primo minuto al centrocampo più candreva di Lazaro perché Lazaro non ha durante l'estate provato più di tanto tutto il discorso del 3-5-2 a tutta fascia dall'altra parte a Samoa lasciamo perdere per il momento i discorsi Biraghi Sanchez Icardi il mercato in uscita Gio Mario Dalbert i recuperi non recuperi l'ultimo tassello eccetera eccetera il centrocampista no ora c'è solo Inter-Lecce il 26 di agosto e quindi c'è solo Inter-Lecce a Samoa a centrocampo Vesino che ha convinto nelle ultime due uscite più di Barella quindi questo è il più ballottaggio e forse l'unico ballottaggio vero Vesino-Barella Brozovic-Sensi punti fermi risultato già di questo precampionato in avanti Lukaku-Lautaro Lukaku-Lautaro coppia d'attacco queste le scelte di Conte 65.000 il pubblico previsto 2.500 da Lecce al terzo anello blu ricordo che alcuni settori del terzo anello blu centrali sono chiusi ma 2.500 ci vanno benissimo anche i lati terzo anello rosso aperto grande tecnologia anche primo stadio in Italia a dare questi servizi a indicare il posto tramite il cellulare tramite applicazione anche gli 11 in campo insomma ci si può divertire ovviamente anche soprattutto tifare vediamo un po' le scelte di Liberani perché tanti nuovi acquisti per il Lecce e il Brescia hanno detto che il Brescia è andato a vincere a Cagliari a sorpresa sul calcio di rigore così come Donna Rumma ha segnato sul calcio di rigore che non è Donna Rumma del Milan che ha fatto una grande parata ma non è riuscito a portare punti al Milan che come detto ha perso a Udine il Verona ha strappato il pareggio su punizione in 10 contro il Bologna e il Lecce terza neopromosso quindi una vittoria un pareggio speriamo non me ne vogliano gli amici salentini a cui auguro la salvezza manca la sconfitta tra le tre neopromosse vediamo se riusciamo a fare il dovere quello che l'Inter deve fare Gabriel in porta del nuovo acquisto il ballottaggio in difesa è Rispoli più di Benzar anche se un po' a sorpresa sono stati convocati sia Benzar che Mancosu che non erano al 100 che non sono al 100% Mancosu ovviamente può essere ancora più importante ma ci arriviamo Rossettini anche lui nuovo acquisto con Lucioni e Calderoni Calderoni strafavorito su Dell'Orco centrocampo Petriccione Taxidis Maier questo dovrebbe essere confermato anche dalla scorsa stagione e qui Mancosu il trequartista titolare potrebbe essere sostituito da un altro acquisto Shakov vediamo se sarà lui a giocare dietro le punte anche se Liverani ha detto abbiamo provato anche un po' in Coppa Italia la difesa a tre a partite in corso difficile che però anche per le parole del tecnico del Lecce vada a snaturare il suo impianto di gioco quindi il rompo anche se poi l'Inter dovrà avere di più la palla davanti la Padula altro nuovo acquisto con Falco favorito su Farias favorito su Lamantia quindi diamo più Falco la Padula davanti con ballottaggio Mancosu Shakov e ballottaggio da terzino destro Benzar Rispoli il resto dovrebbe essere questo quindi Petriccione Taxidis Maier Lucioni Calderoni Lucioni Rossettini coppia centrale Calderoni a sinistra con Gabriel in porta queste sono le ultime notizie della vigilia della vigilia non ci sono i convocati alla vigilia ci possiamo aspettare sorprese ci aspettiamo anche sorprese ma quello che ha sempre detto Conte che ha sempre anche fatto anche gli allenamenti l'orario si cambia di giorno in giorno in giorno perché nella testa dei giocatori ci deve essere il miglioramento e ci deve essere la giornata basata sul calcio quindi così anche sulla corda anche per quanto riguarda le convocazioni per tutti e quindi e quindi tutti devono non fare bene sempre per riprendere una frase di Conte forse la frase clou della conferenza non bisogna fare bene bisogna fare meglio degli altri meglio di tutti perché per vincere per ampliare quell'1% che oggi ha voluto risottolineare in conferenza stampa l'1% di possibilità di vincere bisogna lavorare non bene ma più degli altri meglio degli altri un caro saluto da Michele Borrelli ci vediamo per forza ragazzi mi raccomando edizione speciale di forza ragazzi dalle 20 e 30 quindi un quarto d'ora prima della partita piccolo prepartita breve prepartita ma lunga telecronaca così come i vostri commenti durante la diretta iscrivetevi al canale fatelo conoscere i vostri amici interisti poi anche post partita commenti esultanze speriamo tante esultanze perché insomma interlecce ha visto anche tre pareggi e quattro sconfitte su 30 partite soprattutto 14 vittorie una sconfitta in casa anche vittorie ampie nel passato come il 6 a 0 del 99 il 4 a 1 l'ultima di questo decennio ma ora bisogna continuare e riprendere a riscrivere la storia interlecce inizia il campionato buon campionato a tutti sempre forza inter ci vediamo su interfantv 20 e 30 lunedì ciao